Cerco il sole in un sorriso che in silenzio fa tanto rumore Guarda, ci ha messo Italia! Il sogno è sempre una scelta da fare Ragazzi, anche voi nello store equilibra? Certo, io non posso più fare a meno della crema viso Argan di equilibra perché grazie all'azione dell'olio di Argan, al burro di karité e l'olio di rosa moscheta regala al mio viso idratazione e levigatezza e contiene il 98% di ingredienti di origine naturale E tu Rachele, per una sportiva come me, cosa proponi? Senza dubbi Cellulite Plus di equilibra che contiene vitamina C, tarassaco, biotina e mate Oltre a combattere gli anestetismi della cellulite contrasta il gonfiore e aiuta il metabolismo Una sportiva come te non può avere la cellulite Insomma ragazze, volete sapere qual è il mio segreto? Io sono un equilibra people e credo nell'affidabilità dei suoi prodotti e gli uso E voi? Sì sì certo, anche noi siamo equilibra people Equilibra perché tu ci stai a cuore